Lo sportello del cittadino dice no al razzismo, ad ogni forma di discriminazione razziale e lo fa con una splendida iniziativa dell'Istituto di Istituzione Secondaria Superiore di Taranto Archimede, l'open day di quest'ultima domenica con un nome tipicamente brasiliano Capoeira e siamo con il dirigente scolastico Pasqua Vecchione, una iniziativa basata sul concetto di far comprendere a tutti che su questa terra siamo tutti uguali, bianchi e neri. Sì sì, siamo tutti uguali i cittadini delle diverse etnie che possono convivere all'insegna della libertà, della fratellanza e dell'uguaglianza nel rispetto reciproco, quindi se si vivono questi concetti che non sono solo teoria ma si mettono in pratica, all'interno degli istituti scolastici tutti dai 3 anni ai 18 anni e se vengono vissuti in maniera consapevole e reale veramente possiamo sperare di operare per un cambiamento. Ed è bello vedere assieme l'uno accanto all'altro, gomito a gomito, ragazzi con il colore diverso della pelle. Certo, colore diverso, pensieri, idee diverse ma che possono contribuire al successo e al progresso dell'umanità, al successo nel senso di miglioramento personale e dell'umanità. Polifemo e lo sportello del cittadino e l'istituto Archimede dicono no al razzismo.